Ciao ragazzi, allora ci sono arrivate tantissimi messaggi inerente al metodo Acra. Che cos'è? Il metodo Acra nasce per personalizzare i colori del tuo ambiente in base al tuo stile e alla tua personalità. A sta come ascolto, quindi vengono innanzitutto studiati i profili grazie a un questionario che bisogna compilare. Questi profili che vengono studiati successivamente ci sarà una consulenza nella quale ci sarà la C come consiglio per personalizzare sia con i controsoffitti sia con le luci sia con i colori il tuo ambiente in base al tuo stile e alla tua personalità. Ma questo non basta perché durante l'esecuzione dei lavori, durante l'applicazione dei prodotti ci sono sempre delle problematiche e la R sta per risoluzione alle problematiche. E poi come risolviamo queste problematiche? Con la A, applicare i giusti prodotti. E già perché ogni prodotto nasce per la soluzione ad un problema. Sono i quattro pilastri fondamentali per la personalizzazione del tuo ambiente. Tu immagina un tavolo con quattro piedi, ne togliamo uno, che cosa succede? Diventa instabile. Bene, spero di essere stato chiaro nello spiegare di che cosa tratta il metodo Agra e se hai ancora dei dubbi o delle perplessità non esitare a condattarci. Ciao!